Gentili telespettatori, buona giornata. In questi giorni, in queste settimane, si parla di una sorta di nuovo partito conservatore che racchiuda praticamente tutto il centro-destra. Ora, se ne sta parlando da tempo, sotto traccia, e dicono che per le elezioni politiche europee del 2024 la Meloni potrebbe proprio annunciare la nascita di un nuovo partito, quindi da Fratelli d'Italia si passerebbe al partito conservatore italiano, con ovviamente a capo Giorgia Meloni, ma con al suo interno anche tutti i partiti che vorranno fondersi. E questo poi i partiti piccoli lo vedrebbero con interesse, perché il partito piccolo che non entra in Parlamento perché non arriva al 3%, fondendosi, almeno i suoi capi politici, avrebbero il posto fisso in questo nuovo partito. Funziona così, no? Mannaggia. E questo ormai lo sanno tutti, che ci sarebbe questa idea di Meloni di fondare questo nuovo partito. All'improvviso Berlusconi ci riprova, intervistato da Libero, parla di un centrodestra rinnovato e di un nuovo partito politico, un grande partito conservatore, cristiano e liberale. Questa è una delle cose che di solito fa Salvini, quella di anticipare quello che dirà Meloni per prendersene i meriti e dire che è merito suo. La Meloni domani annuncia un provvedimento e Salvini lo annuncia il giorno prima sui social in modo da far capire e far credere all'elettorato suo che è una sua idea. Quello che dirà la Meloni il giorno dopo è una sua idea. È un giochino un po' che puoi fare al tuo elettorato, che ci casca. E così fa la stessa cosa anche Berlusconi. Visto che sa perfettamente che la Meloni sta per lanciare prossimamente questo progetto, lui vuol giocare in anticipo dicendo che è una sua idea. Avete capito, no? La Meloni ancora non ha detto niente. Come Salvini, che il giorno prima dei provvedimenti scrive sui social quello che dirà il giorno dopo la Meloni facendo credere che sia un'idea sua, anche Berlusconi fa la stessa cosa. Visto che la Meloni non ha ancora parlato di questo partito conservatore, ma lo sanno tutti, allora lui interviene anticipando e dicendo ho un'idea, no? Un grande partito conservatore, così da far passare, da far credere a un certo tipo di elettorato che quella del grande partito conservatore è una sua idea, perché è lui che è sempre al centro dell'attenzione, è lui che ha fondato il centrodestra ed è lui l'ideologo del grande partito conservatore. non la Meloni, ma lui. Avete capito il giochino propagandistico di questi due leader politici che hanno cercato e cercheranno di ostacolare in tutti i modi qualsiasi avanzo che la Meloni può fare con il suo partito o con un altro progetto. Questo progetto di questo partito conservatore piace agli azzurri perché un partito che è ridotto al 6%, se entra in un grande partito conservatore i dirigenti di questo partito hanno il posto fisso, assicurato, perché fondendosi l'accordo qual è? C'è una fusione ma i dirigenti devono avere il posto assicurato in questo nuovo grande partito conservatore. Quindi capite perché i big azzurri, cioè i dirigenti di Forza Italia, sono felici se nasce questo partito perché hanno il posto assicurato, come i piccoli partiti che anche lì ai leader avrebbero il posto assicurato. Quindi piace ai piccoli partiti di centro, destra, piace a quelli di Forza Italia, almeno ai dirigenti, ma da Fratelli d'Italia e Lega sono rimasti in silenzio su questa proposta di Berlusconi che in realtà cerca di anticipare quello che già tutti sanno. Naturalmente in Fratelli d'Italia hanno capito l'antifone, dicono ma guarda questo qua che all'improvviso parla di un partito conservatore, no? Qualcuno ha detto che pena. Dalla Lega non dicono niente perché? Perché? Perché il giochino che sta facendo Salvini di anticipare il giorno prima le cose che chiedirà la Meloni, questa volta l'ha fatto Berlusconi e in Forza Italia hanno fatto quella faccia un po' così come dire «E quindi?» No, come dire «Ma anche lui fa lo stesso giochino». Quindi nella Lega sono rimasti freddi e dice «Caspita, è arrivato prima Berlusconi, quello del grande partito di conservatore poteva dirlo Salvini, invece si è fatto fregare da Berlusconi che l'ha detto prima». Quindi in Fratelli d'Italia hanno capito il giochino dei due e sono rimasti in silenzio. Nella Lega sono rimasti in silenzio dire «Mannaggia, Salvini è arrivato tardi, si è fatto fregare da Berlusconi». Mentre in Forza Italia sono tutti contenti perché potrebbero avere garantito un posto di lavoro fisso in questo nuovo partito. E così Berlusconi dice che nel 2023 gli italiani devono aspettarsi certamente un anno di duro lavoro, nel quale però non mancherà qualche segnale di speranza. «Ci stiamo applicando perché sia anche l'anno della ripresa», dice Berlusconi. «Avevamo poco tempo a disposizione e risorse limitate, molte delle quali le abbiamo dovute impiegare per scongiurare gli effetti del caro energia. Tuttavia alcuni risultati importanti li abbiamo ottenuti. Un primo aumento delle pensioni minime, almeno per i più anziani. Sono stati realizzati anche alcuni tagli fiscali». Parla dei 6 euro in più al mese, con il cuneo fiscale. Poi Berlusconi conclude «Sogno un grande partito conservatore, cristiano e liberale, una forza plurale». «E vabbè, i progetti di Forza Italia sono semplicemente quello di lavorare per onorare gli impegni con gli italiani», dice Berlusconi. «I fratelli d'Italia, come vi dicevo, ignorano totalmente le parole di Berlusconi». Naturalmente vi terrò informati sugli sviluppi di questa idea, che sempre più i giornali ne parlano e i politici ne sono consapevoli, che ha da venire. Grazie a tutti e arrivederci a presto. Ci vediamo al prossimo video.